Signori benvenuti in una nuova puntata della Let's Technic 4 Allora raga nella scorsa puntata abbiamo fatto questi quattro blocchi Dopo che abbiamo lavorato con la Towncraft, con la Blood Magic Botania in mezzo, mamma mia, mamma mia, cioè veramente ci è voluto tanto Però alla fine abbiamo il Tier 3 della... della cosa, della... come si chiama, della Blood Magic Allora raga, noi stiamo ottenendo la bellezza di 2279 milibucket ogni volta che fa questo lavoro qua Il nostro macchinario, no? È un buon numero, però ovviamente possiamo abbassarlo un attimino per mettere delle rune diverse E tipo aumentare magari... scusate Aumentare magari la velocità con cui viene trasferito la Life Essence Fare magari tipo una tank in cui andare a storiggiare per appunto il nostro... la nostra Life Essence E poi andare ad utilizzarla per tutti i nostri crafting Tra l'altro abbiamo ottenuto l'Imbued Slate che è la Tier 3 La Slate di Tier 3 Ora andando a vedere che cosa ci si può fare con l'Imbued Slate Abbiamo la runa della capacità che è una stronzata assurda da fare La Displacement rune che appunto sono quelle rune che vi stavo spiegando Che vogliono praticamente... una aumenta la capacità dell'altare e l'altra aumenta praticamente la capacità dell'altare di trasferire i liquidi Poi abbiamo... vediamo cosa c'è... block of slates non mi interessa Appunto ci serviva per poter ottenere la Graphite Electrode Che è praticamente quello che poi andremo ad utilizzare con l'Arc Furnace Per andare ad ottenere per l'appunto il Refined Iron Sì, quindi andiamo a buttare l'Imbued Slate qui dentro per il momento Ovviamente off camera ho fatto un po' di coal coke Nella scorsa puntata vi ho detto che li stavo mettendo a farmare prima di andare al lavoro Infatti così ho fatto Tra l'altro dovrei essere il normale, perfetto Qua abbiamo un po' di bot... di sì, di botania Abbiamo un po' di mana che stiamo accumulando da qua C'è un leggero problema nel rendering di questo alberello Ok, facciamo fare un po' di leaves Ah! Ho detto che cazzo di fine hanno fatto le foglie? Ho detto ma mi sembrava strano Ok, questo è tutto, funziona alla perfezione ragazzotti Anche la Towncraft non mi aspettavo di, tra virgolette, automatizzare almeno un minimo La Towncraft, invece in questo caso è stato veramente molto molto comodo Ovviamente si può automatizzare con l'Applied? Probabilmente sì, però non abbiamo l'Applied ancora Quindi non possiamo fare niente Allora, quindi bando alle ciance ragazzi Non perdiamo tempo perché il tempo ovviamente è pochissimo a nostra disposizione E quindi dobbiamo cercare assolutamente di fare quello che ci serve Ovvero il Refined Iron Quindi, ho visto una cosa Ho visto male Quindi ci serve 27 Reinforced Blast Brick Ora non mi ricordo neanche Blast Brick Come si fanno Facciamo A Ember Shard, Scorched Steel Plate Allora, non dovrebbe essere un problema Però io mi scrivo tutti i vari numeri Perché se no devo andare lì a controllare ogni volta Quindi abbiamo detto 27 Reinforced Blast Brick Poi abbiamo 6 blocchi di steel Vabbè, non manco lo scrivo Cioè, quelli abbastanza facili Facciamo, anzi facciamo una chest Una, vabbè, una chest qualsiasi E iniziamo già a mettere delle cose Quindi steel block ne voleva 6 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Quindi li piazziamo qua Perfetto Poi, e quello l'abbiamo fatto 8 steel sheet metal Vediamo quanti ne ho Ne ho 3 Ma, sì 64 plate di steel Sì, dai Non siamo tirchi Non siamo tirchi Tanto lo steel A parte che è abbastanza semplice da fare Allora, tu c'hai la gear Stavo per fare una cioffecca incredibile Facciamo così E così Molto meglio Anche se è veloce E' accelerato Ogni tanto Ah Ficchia Fammi un attimino Ma Boom Cioè, proprio del tipo Non accelerarmi che è meglio Ma non è che Dovrei accelerare anche Ok, forse sì Ah, ma non ha energia Effettivamente Vediamo Vediamo Mi dimentico Ahia Steel plate Che comunque Consuma Accelerando Accelerando Consuma più energia Perfetto Quindi Abbiamo detto Che ne voleva No No, 8 No, 8 E 14 sheet metal slab Quindi Così facciamo le sheet metal slab Poi Facciamone altri 4 Ne voleva 14 Se non sbaglio Vero Che palle però Si, 14 Non so se facendo Ah sì Facendo così Lo recupero Quindi molto Molto Ottima Questa Come cosa Facciamo così Facciamo così E poi così Quindi recuperiamo I steel sheet metal Che Abbiamo utilizzato Allora Di questi Ne voleva Quanti 8 Ma Perfetto Raga Numeri Giustissimi Mi sta Mi sta piacendo Questa puntata Perfetto Poi abbiamo bisogno Di steel scaffolding Quelli Numero 5 Va bene Raga Qua c'è qualcosa Che non quadra Qualcosa Prima o poi Ci mancherà Sicuramente Un calderone Quindi Cauldron Vediamo se ce l'ho già Iron Perfetto Lo buttiamo Qui dentro Poi Cosa ci serve 10 light Engineering Block Questi potrebbero essere Più un problema Light Engineering Block Allora Uno ce l'ho Andiamo come si faceva Voleva L'hardite Gear E Gli iron Mechanical Component Iron Plate Non ne ho Andiamo a farglielo Fare subito Tanto Non è un problema Opela Facciamo così Per il momento Solo che Purtroppo Ce ne da uno A botta Quindi Dovendone fare Quanti 10 E lui Dandomene Quanto era 3 a crafting Quindi dobbiamo fare Almeno 3 crafting Quindi 3x4 12 di quelli Buttiamo pure Tutto dentro Facciamo così Ricordiamoci Che 3 Li abbiamo Già Quindi 1 2 3 4 5 Me ne mancano Altri 3 Perfetto Adesso Dovremmo avere Tutti i materiali Che ci servono 1 2 E 3 Perfetto Facciamo così Così E così Vediamo quanti ne escono Ovviamente Lui mi deve mettere Le cose male Perfetto Ah Uff Tiriamo un sospiro Di sollievo Per il momento Perché poi Adesso arrivano Gli V-engineering block E quelli sono Un tantino Più complicated Allora Però Siccome Comunque Dobbiamo fare I Blast Reinforced Vattela Pigliando il culo E di quelli Me ne servono Ah no Aspetta Però mi servivano Le steel plate Se non sbaglio Sì Reinforced Ce l'ho qui Vediamo quanti ne escono Ah Ne ho 13 Però devo fare Altri di questi Questo devo vedere Scorched No Scorched brick Com'è che si faceva? No Cos No Cos No Non è possibile No Che palle Oh Gesù Dai Dimmi che ne ho No Non ne ho Non ne ho Non ne ho No No Blender Controller Poi Che cazzo Di mod Era Rockounding Ci serviva la power station Il call Mettiamo così Dove l'energia Così Dovebbe dargli l'energia Attiviamo Disattiviamo Che dobbiamo mettere le cose Allora Quindi per fare Scorched brick Abbiamo bisogno Di Arcanestone brick Ember grit Void crystal E cracker lime Compound Che si fa con la limestone Ora Non so se Magari tipo Ok Ne ho 16 Quindi Andiamo a buttarli Qui dentro Poi Void Crystal Ne ho 10 Ora Non so Quanti Questi qua E poi L'ember grit Che ovviamente Devo andare a recuperare La zona Nella ember Che io non posso avere Tutto 138 Cazzarola Dovrò iniziare a mettergli Anche gli ember crystal Vabbè che raga Non è che mi interessa Più di tanto Papale papale Quindi Ember grit Dovremmo avere tutto Attiviamo Lui non funziona Perché probabilmente C'ho La power station Messa male Andava attaccato Così Ma vaffacu Ecco perché Allora Non so quante Me ne usciranno Però spero Che mi bastino Perché Allora 32 Me ne fai 8 Se non sbaglio Quindi 9 Noi 24 C'è una sera Quindi altre due Ne dobbiamo fare Cosa che ti manca La limestone Quella cosa là Ora vediamo Se limestone Più che altro Ne ho Limestone Non ho la limestone Vabbè raga Ci vediamo Fra un po' Raga Qua il mezzo A una grotta Mentre stavo cercando Il limestone Ho trovato Questa porta Dove c'è Una crafting table E una chest Un letto Un tavolo E Chiazzo Non è che c'è Qualche Chest segreta Con delle risorse No niente Ragazzi Sto cercando La limestone Da un bel po' Ma non ne sto trovando Io non mi ricordo Effettivamente Dove l'avessi Trovata E' un po' Un casino Cioè Perché Allora Proviamo Andare Cioè A casa Ovviamente Dormiamo Perché E' notte Ok Perfetto Molto strana Questa Come cosa Comunque Che dipenda Dalla limestone Per poter fare Quelle cose La Mi sembra Molto Molto strano Allora Proviamo a buttare Tutte queste cose E a controllare Cosa volesse Per fare Quella limestone Qualcosa Lime No come Che si chiama Allora Facendo così Nella blue band Ok Questo No solo la Voi solo la limestone Purtroppo Non saprei Non saprei Neanche dove andare A trovarla La limestone Se vuoi essere Sincero Perché O la cerco Nelle grotte E l'ho cercata Anche adesso Ma non l'ho trovata Oppure Boh Non saprei Cosa dirvi Vabbè Faccio un attimo Un altro giro Poi vediamo Fra un po' Raga Voglio di cercare La limestone Nell'overworld Dato che c'è solo Nella Twilight Forest Cioè Veramente Raga Nervoso L'ho cercato Dappertutto Niente Non Non riuscivo A trovarlo E Poi mi è venuto Il flash Ho detto Ma non è che Non è questa Limestone E l'altra Limestone Quella della Quark Che ci serve E puntualmente Bim Cioè Allora Poi vi faccio Vedere anche Come l'ho scoperto Comunque Ci prendiamo Un po' Di limestone Che adesso Ovviamente Mi fa vedere Dov'è Però Vediamo 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 Eccola qua Perfetto Adesso ne ho Beh Uno stack e mezzo Potrebbe Può bastare Tranquillamente Ok Quindi Torniamo A casotta Che dovrebbe essere Qui il portale Ok perfetto Il portale Non me l'ha spostato Stranamente Sono solitamente Te lo dovrebbe Allora Levati Levati Allora Sì Sono il normale Beh Mi fai Accedere Grazie Allora Tramite Lo scanner Ovviamente Lo buttiamo Dentro Ah Vi stavo Dicendo Praticamente Per trovare La limestone Per sapere Dove era La limestone Ho fatto Così E c'è scritto World generation The twilight forest Che è l'unico Punto In cui Noi possiamo Effettivamente Trovare La limestone Purtroppo O per fortuna Non lo so A seconda dei casi Quindi Adesso mettiamo La limestone Qui dentro E lui dovrebbe Darci la Cracket Lime Compound Perfetto Posso accelerare Tipo un attimino La situazione Andiamo Ah Perfetto Ne facciamo giusto Un paio di stack Lo togliamo Perfetto Poi Era Questo Più Arcane Stonebrick Arcane Ember Grit Più Void Crystal Quindi Arcane Stonebrick Ember Grit E Void Crystal Thank you so much Quindi facciamo così Così Ho 48 Scorched Brick Perfetto Quindi buttiamo Tutto qui dentro Anche se ne avevo fatto Un bel po' Di scorched brick Alla fine Non son bastati Diciamo Diciamo così E facciamo Ben Questo perché io non controllo mai Non controllo mai Che magari tipo Non ho gli oggetti per Diciamo Oh merda Cazzarola Mi sta finendo Allora Facciamo Coal Possiamo tranquillamente Prendere tutto il coal Tanto Ok Perfetto Vai Faglielo sfruttare Al Al Coso Ok Arriviamo a 27 Non uno di più Non uno di meno Raga Perfetto Thank you so much Andiamo a buttarli Qui dentro Oh Very good Quindi Torniamo indietro Perché non mi ricordavo Neanche come si aprisse Il portale Della Della Twilight Ci servono 5 I v engineering block Ora Ci serve anche Oh merda Quindi Per forza di cose Ci servono 2 crafting A meno che No 2 crafting Per forza Che palle Che palle Che palle Che palle Che palle Ok Vediamo Di questi Me ne servono 8 Ovviamente io Quanti ne ho Il tanto per farne 6 Giustamente 1 2 3 4 1 2 3 4 Perfetto Ok Quindi Abbiamo 8 Steel Mechanical Component E andiamo a vedere Cosa ci manca Che bello Allora vabbè Di questi Me ne servono 2 Perfetto Quindi questa È la cosa più semplice Ah Aia Poi Taumium Per fortuna Ne abbiamo Mi servono 8 di Taumium No In realtà Sono 16 Quindi Facciamo così Per fortuna Adesso Comunque Possiamo Cioè abbiamo Che abbiamo Automatizzato La Automatizzato Un parolone Comunque Che abbiamo fatto In modo di accelerare Un po' le cose Con la Taumcraft Non è più un problema Diciamo Fare del Taumium Per ottenere Le Taumium Gear Oh Gesù Che bello Sì 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 È bellissimo Orba Orba Di tanto spiro Bim Non fammi Non fammi venire Un infarto Per favore 5 IV Engineering Block Finalmente 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 Infine Un Redstone Engineering Block Che dovremmo avere Non ce l'ho Perché non ce l'ho Redstone Engineering Block Questo è abbastanza Semplice Però non ho la Restonia Voglio morire Redstone Sì Fammene un pochettino Di Restonia Ah tra l'altro Ragazzi Non ve ne siete accorti Praticamente Ho fatto Una cosina Molto molto Simpatica Che però Mi permette Di non dover aprire Io La porta A mani Ovvero Ho messo Il barrier Proprio qui Di fronte alla porta In modo che Tipo Se io provo Cioè io posso entrare Ma i mob ovviamente Non possono farlo Quindi molto molto Carina questa cosa Sì Quindi Facciamo così Facciamo così E abbiamo il Redstone Engineering Block In realtà Raga Possiamo già iniziare A craftare A Sì a craftare A montare La nostra Bellissima Arche Furnace Perché Praticamente Abbiamo tutto Abbiamo i blocchi Cioè le Graffitte A barra Alla fine Si inseriscono Dentro L'Arche Furnace Quindi Engineer's Book Engineer's Manual E ovviamente Il Projector Che ci dà Una mano Non del tutto Indifferente Allora Facciamo Arche Furnace Lasciamo così Uno E uno Due Poi Dove la vogliamo Montare Ovviamente Nella zona Come si dice Ingegnerosa La mettiamo La mettiamo La mettiamo Ma La possiamo Mettarla L'input Dovrebbe essere Questo In teoria No L'output Scusate Ma sì Sì Possiamo Effettivamente Ah non l'ha Non l'ha messa Ok così Perfetto Quindi Teniamo Solo il piccone Tanto sono tutte cose Che comunque Allora Questi non ne vuoi Questo ne vuoi In questo momento Poi Otto Steel Sheet of Steel O sheet metal Bla 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 Poi Blocco di Steel Steel Scaffolding Infine Le plate Cioè le plate Le slab Quindi così 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 L'archeo Furnesse È molto carina Tra l'altro Da Da vedere È un macchinario Abbastanza Uno dei miei macchinari Preferiti Della Della Immersive Engineering Però È anche Molto complicata Da fare Quindi Ci vuole un po' di tempo Ok Adesso Reinforced Blast Brick Uno Due Tre Poi Mi serve Ma Still Block Sì Still Block Still Block Still Block E li abbiamo Anche finiti Di usare Di usare Uno Due Tre Quattro No Tu non lì Perfetto Uno Due E tre Poi Light engineering Block E questo Steel sheet metal Perfetto Poi Sempre questi Thank you Light engineering Block Steel scaffolding Steel scaffolding Light engineering Block A So Good Bim Ovviamente Togliamoci il Projector dalle mani Se non capiamo niente E facciamo Ovviamente Riconfiguriamo la nostra Due Tre Quattro Questo qui Questo qui Perfetto Ok Questa è l'arc Furnace Ragazzotti Quindi l'unica cosa Che ci manca Da fa Merda 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 Drawer Grazie mille Del Drawerino Facciamo Questo Che male Che male Che ha fatto Ha degli upgrade Della Drawer Upgrade Sì A voglia Facciamo così Così Adesso Dovresti essere Effettivamente A posto Allora 64 Va più che bene Ah Poi ci serve L'hop Grafite Dust Hop Ah Grafite Grafite Dust Perfetto Questa Va squisata No Non va squisata Questa Ah È la Coke Dust Quindi Per quello Mi sono messo a farmare Dei coal Coke Perché in questo modo Potevamo fare La La Coke Dust Quindi Adesso Polverizziamo Ovviamente La Molto Lentamente La Vabbè Ci si vede Fra un po' Raga Ok Ce ne servivano 6 Abbiamo per l'appunto 6 Hop Grafite Dust Andiamo a Cuocerli Tra l'altro Qui c'è un po' Giusto un po' Di vetro Per le nostre Per ogni Evenienza Quindi Abbiamo Gli Hop Grafite Eingot Ci servono Questi Più L'Imbued Slate 3 di Queste 1 2 3 E poi Ovviamente La Il bitumen Thank you so much Ma non abbiamo finito Ragazzi Non abbiamo finito Abbiamo solamente Appena Iniziato Perché Perché Adesso Per fare I Le grafite Bar Che sono quelle Che poi ci permettono Di fare Il refanel iron Dobbiamo andare Di infusione Tramite La towncraft Quindi ci serviranno 50 di macchina 50 di fabbrico E 25 di orlo Porca miseria Porca Quindi Mi servirà Armeggiare 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 Con la towncraft Questo è Mortus Ok Mortus Non l'abbiamo ancora Utilizzato Questo è Humanus Se non sbaglio Humanus No Humanus Non l'avevamo ancora Utilizzato Quindi Allora abbiamo detto Ci serve Macchina Andiamo a vedere Da cosa lo teniamo Ovviamente Sarà dalle cose Tecnologiche Probabilmente Quindi Magari cose Anche costose Probabilmente Speriamo che Magari ci sia Qualcosa Che Può aiutarci In questo senso Magari Un hopper Delle gear Il dawnstone Sì Il dawnstone Ah che è il dawnstone Sì Lo potrei tranquillamente Buttare Tanto ho i semi Effettivamente Potrei utilizzare Quello Dawnstone Però non ne ho Tantissimo Lui me ne da 5 Però Mi da anche No mi da metallus No Riscriviamo Macchina Dobbiamo decidere Insieme Cosa utilizzare Poi dopo Lo faccio io Off camera Ovviamente Ma Redstone Repeater Me ne da 15 Non è così Tanto difficile Da fare Poi da craftare Vediamo se c'è Qualcosa di meglio C'è chi me ne da Di più No Però magari Qualcosa che Potrebbe essere Più Più Facile Da usare Dawnstone Vabbè La roba di dawnstone Abbiamo capito Che è il clock Ah però Vabbè Il clock È più È notevolmente Più semplice Però c'è Quattro aspetti Raga La Madò Peccato Non abbia Fabrico Sennò i pistoni Li avrei usati Volentieri Vabbè A parte I vari Macchinari Che comunque Ok Queste Mi danno 5 di fabbrico Quindi mi danno Solo fabbrico Perfetto Quindi facciamo Fabbrico E macchina Scusate Macchina in quel modo Quindi ci prendiamo Una giara Prendiamo più di una giara Facciamo stick Perché le altre A parte che Gli altri gear Comunque ci possono servire Però Gli altri gear Potrebbero Tirare fuori Comunque Altri Aspetti Tipo Metallus Cose preziose Eccetera Eccetera Allora 5x60 Sono 120 Quindi 120 Sono più Quasi Ok dai Le facciamo Smentare tutte quante E qua Stiamo ottenendo Ovviamente Macchina Andiamo Nel frattempo A vedere Come ottenere Fabrico 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 Ok Fabrico Si può ottenere Dalle 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 Blocco Di nickel Che però Mi dà anche Metallus Un po' Una rottura Di balle Vorrei evitare Di Ottenere Troppi aspetti Comunque Crafting table La crafting table È qualcosa Che mi ha Mi ha sollevato L'umore Si però Mi servono Le planks Andiamo a farne Un po' 17 vanno Più che bene Ovviamente Aspettiamo Che Qua Mi riempa Di fabbrico Anche se In teoria Potremmo Accelerare Forse Ok Notevolmente Più veloce Ah Devo accelerare Anche la Giara Ma Ho fatto Un attimo Il conto Male Vabbè Dai Iniziamo Appoggiarla Qua Quindi Fabbrico Ce l'abbiamo Facciamo così La svuotiamo Del tutto Thank you E mettiamo La crafting table Questo togliamo Andiamo a mettere Un'altra Giara Per ottenere Fabbrico Finalmente Ce l'abbiamo Un attimino Perfetto Molto bene Mi servirà Mi servirà Un'altra Giara Che bello Non lo sopporto Quando fa così Allora Facciamo così Così Aspettiamo Aspettiamo un attimino E nel frattempo Ovviamente Andiamo a controllare Ordo Che è l'ultimo aspetto Che ci manca Ordo In realtà Abbastanza semplice Ordo Da trovare Se non sbaglio Perché comunque Essendo un aspetto Base Dovrebbe Trovarsi Nella maggior parte Cioè Non nella maggior parte Comunque In molti Molti oggetti Infatti Possiamo Trovarlo Nella roba Di still Ma neanche Se mi paghi Butto Alla roba Di still Potrei Buttare Buttare Un po' Di lead A ingot Che Mi dà Comunque 5 Di ordo Sì Sì Questa la togliamo La mettiamo qua Perfetto Quindi Andiamo a prendere Un po' Di lead Non ne prendiamo Tanto Prendiamo 16 E andiamo A cuoquerlo Ah C'è anche Metallus Però ovviamente Nel lead Dobbiamo aspettare A trasferire Tutto il Metallus Perfetto E adesso C'è ordo Perfetto Pericuta Anche se Anche se Io Allora Non ho fatto Il conto Perché Graffitte A noi Ce ne servirà Il triplo Quindi Ordo Ce ne serve 75 Ne abbiamo 72 Mentre Fabrico 150 Quanto ne abbiamo 250 Voglio Quello 250 A posto Quindi Per questi due Siamo a posto Ci manca solo Un po' Di ordo Alla fine Quindi Mettiamo pure La La Ward jar Con ordo Qui E andiamo a Buttarci Un altro po' Di lead Lead Un lingotto Dovrebbe bastare Facciamo così Ok 75 Perfetto So good So good So good Quindi Ci servono Le Bued Slate Questi Hop Graffitte Allora Innanzitutto Mettiamo Questo qui Poi Andiamo a verificare Insieme Come Come vanno Disposti Sono 1 3 1 3 Così 1 1 2 3 Poi 1 1 2 E 3 Ma Voleva il caster Quella cosa là Ok Si Aspettiamo Giusto un attimino Che prenda Tutti gli aspetti Che gli servono E ne craftiamo 3 ragazzi Ci vediamo Fra un po' Si Raga Poi tra l'altro Poteva essere accelerato Runic Matrix Bellissimo Tipo L'ho fatto Immediatamente Quindi Adesso Ah Mi sembra di aver visto qualcosa Quindi adesso Ragazzotti cari Possiamo venire qua Buttare Le tre Cose Quelle Le Graffite bar Ovviamente Lui vuole energia Lui vorrà energia Ovviamente Ci dà 4 adatti Weingot Che io non ho la Ben che minima idea Di come si craftino Daxo smelta Daxo smelta con il palladio E l'infinity dust block Oppure vabbè qui dentro E ci servirà per fare Che cazzo è successo Nel frattempo Nel mio mondo Reale Ok ragazzi Quindi Ci dà L'adattive Weingot Che serve Praticamente A fare A triplica Cosa? Per ovviamente Palladio Ma Ma non il palladio Quanto palladio Abbiamo Beh Contate che poi molto palladio Io l'ho lasciato Nel Cioè Non l'ho raccolto Perché comunque Non Facevo niente Quindi Oltre a sbloccarci I Traslocator I Traslocator Cazzo Sì 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 Cazzo Sì Ci serve Il refined Iron Iingot Ci fa fare Il refined Iron Iingot Che vuole L'iron Iingot L'imestone Flux Che si ottiene Crashando La limestone E Il Crashed Slate Se mettiamo Il crash Slate Possiamo ottenere Una rich slug E due Refined Iron Quindi Assolutamente Sì Perché Comunque Abbiamo Automatizzato Quasi Automatizzato Le Le cose Quindi io direi Di fare HV HV cable Ovviamente Prima di Allora Dov'è Dov'è che va L'energia Questo Coso Ah Qui dietro No Che palle Allora Stone brick Quindi Prima L'attacchiamo All'arc Furnace Poi dall'arc Furnace La mandiamo Tipo se io faccio Un'altra Cosa Qui No Lui dovrebbe Tranquillamente Collegarsi No Perfetto Perfetto Poi Lui Così Dobbiamo Collegarlo A lui E quindi Infinibus Qua non avvicinarci Neanche Perché Neanche Morto Perché Sennò Poi Crepiamo Male Quindi qua Mettiamo Una chest E infine Qua Colleghiamo Il tutto Ora Zero RF Su T Perché Perché Lui Non sta Generando Non sta Generando Energia Per quale Motivo Strano No Si Ok C'è Energia Allora Prendiamoci La Limestone Poi Iron E Crushed Slate Che Comunque Ne Abbiamo Quindi Io Direi Ragazzi A vedere Non Vedere Farne Un po' Di Di Cose Di Refined Iron Perché Non sappiamo Ancora Quanto Effettivamente Ce ne Può Servire Quindi Aspettiamo Un Attimino Un Po' Di Questo Limestone Flux Molto Molto Strana Questa Cosa Purtroppo Non Possiamo Fare Altrimenti Che Aspettare Vabbè In realtà Abbiamo Già Finito Perché Abbiamo Solo 24 Crushed Slate Che In realtà Potremmo Tranquillamente Aumentare Però Vediamo Quindi 24 Di Questi 24 Di Questi E 24 Di Questi E Dovremmo Poter Ottenere Il Il Nostro Refined Iron Finalmente Non so se Tipo No Non si Accelera Quindi Questo Sarà Un Processo Tra Tra l'altro L'Arc Furnace Dovrebbe Permetterci Di Riciclare Alcune Cose A parte Che ci Permette Di fare Sì Ci permette Di fare Le leghe Le leghe Molto Semplicemente Mettendo Quel cazzo Di lingotto Che ci Serve Sì Che Bello Lo Steel Il fatto Cos Mamma Mia Raga E Stupendo E Stupendo Sì Più che Altro Raddoppia Anche Cioè I cosi Così Giusto Facilmente Senza Starli A Raddoppiare Le cose Con L'Arc Furnace Possiamo Anche Ottenere Se non Sbaglio Facilmente Lingotti Come L'Osmio Se non Sbaglio Se non Mi Ricordo Male Le leghe Raga Possiamo Che poi Tra l'altro Possiamo Fare Questi 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 Sì Sì Raga Non potete Capire Quanto Quanto Sono Felice Quanto Sono Felice Di Vedere Finalmente 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 Abbiamo Il Finalmente Ragazzotti Finalmente Refined Iron Refined Iron Refined Iron Ora Vediamo Quanto Consume Integrità 100% Ok Niente Male Niente Male Andiamo Ovviamente Questbook Tier 4 Token Oh So Good Copy Pasto Che Non Mi Interessa Questo Sì Poi Lo Faremo Ma Sono Sempre Quelle Quest Che Rimangono Da Fare Per Ultime Ma Ovviamente Quindi Cosa Ci Chiedere Di Fa Oh Mamma mia Allora Closing Void Rift Slayer Fire No Tu sei Fuori Di Testa Perché Dovrei Uccidere Un Drago Hydra Ok Lurgast Per Quale Motivo Dovrei Ah Ecco Mi Sembrava Strano Che Comunque Tipo Ti Bloccava Troppo Comunque Ragà Non Chiudo Ancora La Puntata Perché Ovviamente Come Di Consueto Quando Si Conclude Un Capitolo Abbiamo A disposizione L'acquisto Di Un Nuovo Di Una Nuova Cosa Quindi Inscribe Lesser Crimson Perché Cioè Questi Va bene Non mi interessa Posso andare a cercarli Non è Non è un problema Anche questi Non li spreco Sicuramente Per quello Idras Are Scary Ok Niente 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 Assolutamente No Questo No Tech Things No Raga Assolutamente Questo Assolutamente Come Sempre Tech Things Sempre 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 Le rune Te le puoi buttare Su Per il Si 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 Vai 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 Prenditelo 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 Perché Con Con Questo Bellissimo Advanced Logic Circuit Possiamo Fare Finalmente Il Sequenzial Fabricator E Automatizzare Tantissime 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 Cose Tra L'altro Vediamo Se c'è Qualcos'altro Di Interessante No Per il Momento No Però Abbiamo Circuit Board Anche E Electronic Circuit Della Tech Reborn Interessante Però Raga La puntata Di Oggi Finita È Stata Piena Di Cose È Stata Tantissimo Piena Di Cose Abbiamo Finalmente Concluso Il Quarto Capitolo Della Modpack Siamo Praticamente A metà Gioco Siamo Praticamente A metà Metà Modpack In 40 Puntate Quindi Prevedo Che il Modpack Si Concluderà In 100 Puntate Più O Meno Mi Fa Molto Piace Adesso Stiamo Entrando Nel Vivo Proprio Del Modpack Perché Sono Tutte cose Che Adesso Posso Automatizzare Off camera Tipo La Blood Magic Adesso Il Mixer Sparisce Perché Abbiamo L'Arche Furnace Abbiamo L'Arche Furnace Ora Voglio Dire Mixer Non Mk2 Mk1 Ci permette Di fare Il Bronzo Il Costantan L'Invar L'Electrum L'Innert Metal Conductive Iron Pulsanting Iron Questo Lo possiamo Fare Anche Nella Nella Fornace Della Tinker E Poi Il Blood Ok Ma Ovviamente Queste cose Le possiamo Fare Anche Tipo Bronze Vediamo Voglio Avere La Prova Prima Di Andare A Smontare Tin Più La Polvere Del Copper Sì Cioè Le polveri Praticamente Dovremmo Utilizzare Però Sì Lo Possiamo Fare Poi Cos'era Era L'Invar Devo Verificare Tutto Raga Lo Verifico Off camera Ci salutiamo Dopo Sì Raga Possiamo Fare Tutte Le Leghe Che Vogliamo All'interno Dell'Arche Furnace Per Fortuna Per Fortuna Quindi Il Mixer Sarà Completamente Rimosso Ma Proprio Cioè Proprio Preso Tutto Via 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 Anche perché Uno Mi sta Sprecando Un sacco Di Ember Shard Ok Bella L'Ember L'Ember Candler Tutto Quello Che Volete Ma Raga Cioè Continuare Comunque A sfruttarla Così In questo Modo È una Perlita Di Materiali Ma Per il Momento Raga È tutto Io sono Mette Ci vediamo Alla Próximo L'Ember